salve ragazzi buongiorno e bentornati sul canale non so se avete visto il video che ho pubblicato qualche giorno fa vi metto il link sopra in descrizione in cui riprendevo degli animali che passavano lungo un sentiero un sentiero molto trafficato mi sembra che si chiama proprio così il video bene dopo qualche giorno ho ripreso lungo questo sentiero un cinghiale che era tutto bagnato allora mi è venuta una curiosità ma da dove risale indipendentemente c'è l'acqua siccome so che sapevo insomma che sotto questa collina c'era un fossato però sapevo anche che questo postato era irraggiungibile allora mi sono detto va bene adesso ci provo ho preso le cesoie e mi sono avventurato per questo per questo sentiero quindi l'ho l'ho aperto l'ho ripulito diciamo così quel tanto che bastava per per passare e sono arrivato in uno spazio veramente incredibile guardate che roba qui siamo proprio in uno slargo sulle sponde proprio di un piccolo ruscello quindi quello del fossato adesso ve lo faccio ve lo faccio vedere guardate come ci sono delle belle delle belle piante incredibile questo è un posto veramente eccezionale questo è il fosso praticamente qui l'acqua c'è sempre questi tronchi non è che c'erano li ho messi io perché volevo provare a riprendere gli animali magari che passavano sopra i tronchi quindi prove tecniche di trasmissione diciamo così e questo è il fossato che poi risale il bello di questo posto sta nel fatto che è praticamente quasi interamente circondato da spine quindi di là è inaccessibile la parte superiore è inaccessibile anche la parte qui è inaccessibile anche qua lo vedete sono tutte spine tutti i rovi è una zona veramente inaccessibile quindi sono praticamente quasi sicuro al cento per cento che questo è un posto che o nessuno conosce oppure se anche lo conosce adesso non lo frequenta non lo frequenta più anche io per venire qui mi sono dovuto aprire la strada con le con le cesoie con le forbici da pota diciamo così quindi ci ho messo anche un pochettino però alla fine insomma ragazzi per me questo posto è stupendo adesso già ci ho messo quattro fototrappole però adesso ce ne mettiamo altre quattro e vediamo come andrà a finire comunque ragazzi oggi non sono qui soltanto per scoprire questo posto stupendo sono venuto anche perché dovevo fare la recensione a una nuova fototrappola un modello della q life pro la ph 830 w eccola qui quindi partiamo subito con questo video andiamo a vedere le caratteristiche principali di questa fototrappola poi ne vedremo insieme il menu di configurazione e qualche video che sono riuscito a girare quindi da questa splendida location che penso che diventerà la mia location preferita sia per quanto riguarda le recensioni ma anche per quanto riguarda le riprese spero che ci siano veramente tantissimi animali quindi da questa splendida location iniziamo con questa recensione vediamo dunque insieme le caratteristiche principali di questa fototrappola della q life pro la ph 830 w allora partendo dall'altra abbiamo 28 led a emissione luminosa di 940 nanometri quindi sono led completamente invisibili che la fanno adatta quindi anche a controllare magari un casolare una tartufaia un po live quello che volete sotto abbiamo un obiettivo che può girare video in 2k e scattare foto fino a 48 megapixel sotto c'è il peer sia l'obiettivo che il peer sono a 120 gradi quindi hanno un fob di 120 gradi quindi sono dei grandi angolari un'altra cosa che volevo dirvi che questa fototrappola è dotata di un'applicazione dedicata quindi la possiamo gestire direttamente dall'applicazione senza andarla a toccare assolutamente qui c'è il forellino per il microfono l'apriamo sulla destra abbiamo il mano per le batterie sulla sinistra abbiamo un pratico display da due pollici i vari tasti funzioni l'alto parlantino poi la levetta per la accensione fianco alle vette per accensione c'è l'ingresso per mini usb per mettere il cavetto se vogliamo collegare il computer a fototrappola scaricare così i dati e poi lo slot per la micro sd per mettere la nostra scheda di memoria supporta la scheda di memoria fino a 256 giga da 16 giga a 256 giga e trovate una scheda di memoria di 32 giga in omaggio dietro abbiamo solita asola per far passare la cinghia i fori per il cavetto di sicurezza e questa plastica per avere più grip su sulla pianta qui c'è il foro appunto per mettere su un cavalletto e l'alimentazione esterna a 6 volt ecco qua bene io direi adesso di andare direttamente a vedere il il menu di configurazione di questa fototrappola l'accendiamo e ve lo faccio vedere vediamo che cosa possiamo fare con questa ph 830 w andiamo ad accendere la nostra fototrappola e vediamo che cosa ci permette di fare spostiamo la levetta su test aspettiamo la pagina iniziale ecco qua praticamente stiamo vedendo quello che la fototrappola sta inquadrando in questo momento non è granché perché è contro la pianta quindi va bene ci avviciniamo un pochettino così vi faccio vedere meglio che cosa possiamo fare ecco qua faccio vedere anche i tasti come vedete in alto qui abbiamo l'iconcina della macchinetta fotografica questo significa che siamo in posizione di scatto fotografico e se premiamo il tasto shot possiamo fare una foto ok se invece premiamo qui la freccetta in alto vedete c'è l'iconcina della telecamera passiamo in funzione video e se premiamo il tasto shot facciamo partire un video eccolo qua naturalmente lo fermiamo perché non stiamo inquadrando niente di interessante poi tutto questo lo possiamo andare a rivedere anche quello che abbiamo registrato sulla scheda premendo il tasto replay qui in basso vedete qui ci dice che abbiamo sei video o sei foto 6 su 6 e questo è il numero 6 scendendo con le frecce in alto o in basso passiamo al numero 5 numero 4 al numero 3 al numero 2 al numero 1 e qui abbiamo un po di cinghiali che abbiamo ripreso va bene da questa posizione per uscire fuori dobbiamo ripremere il tasto replay e tornare quindi alla pagina iniziale da dove premendo il tasto menu entriamo nella configurazione vera e propria vi cambio la lingua io la lascio in inglese anche perché mi serve per ricordarmi anche le parole lo faccio un po apposta aspetta vi cambio la lingua andiamo a prendere l'italiano così intanto vi ho fatto vedere quante lingue sono disponibili e torniamo all'inizio dove abbiamo la prima voce che è quella della modalità entriamo scendiamo possiamo fare rilevamento di movimento time lives normale oppure video in time lives quindi che cosa significa che se la posizioniamo sul rilevamento del movimento la fototrappola funzionerà normalmente come usiamo le nostre fototrappole quindi basandosi sul sul movimento di un animale che poi in effetti non è neanche quello ma è proprio la temperatura se andiamo sul time lives normale faremo un video in time lives anzi più che fare un video in time lives faremo delle foto che poi metteremo insieme per fare un video in time lives quindi saremo noi in post produzione a fare un video in time lives se andiamo invece in video in time lives sarà la fototrappola stessa se che sempre con le nostre impostazioni andrà a fare direttamente un video in time lives quindi io scelgo attualmente rilevamento di movimento ed esco tempo di lavoro che cos'è il tempo di lavoro vediamo può essere spento acceso andiamo su acceso benissimo qui possiamo impostare l'ora di inizio e l'ora della fine di un periodo di funzionamento della nostra fototrappola per esempio gli possiamo dire di funzionare dalle sei del mattino fino alle otto di sera questo può essere molto utile se la posizioniamo in un posto particolare dove non c'è bisogno della fototrappola funzioni sempre oppure anche quando abbiamo le batterie che si stanno scaricando allora impostiamo soltanto di giorno per continuare a riprendere dei bei video e utilizzare le batterie fino alla fine magari la notte non ce la fanno ma il giorno sicuramente sì ok usciamo da questa funzione e andiamo a mettere sospento poi scegliamo se fare foto o video quindi possiamo scegliere se fare solo fotografie che ci serviranno magari per un video time lives oppure anche ci possono servire a noi magari per fare delle belle foto di animali e poi possiamo fare soltanto dei video oppure possiamo fare prima delle foto e poi di video possiamo anche scegliere di se passa un animale di scattargli prima 123 fotografie adesso vediamo quanto ne possiamo fare e poi far partire un video io normalmente metto soltanto video poi qualità fotografica odio sono uscito no qualità fotografica andiamo su ok qui possiamo andare a impostare la nostra risoluzione partendo da un minimo di media di 8 megapixel quindi questo ci dice già che il nostro sensore è un 8 megapixel e arrivando a 48 megapixel interpolati poi lasciamo a 8 megapixel tanto il resto non ci interessa per il momento la risoluzione del video entriamo ecco qua quello che vi dicevo prima il video può arrivare a 2560 x 1440 un 2k normalmente io imposto sempre i video a 1920 x 1080 il full hd perché comunque sono video di buona qualità quindi sono dei video molto belli da vedere che nulla nulla possono invidiare al 2,7 k insomma la differenza al 2k al 2,7 k la differenza è veramente minima occupa soltanto molto più spazio sulla scheda di memoria e le immagini quando alla fine sono molto molto simili comunque questa opzione c'è quindi se volete la potete utilizzare io so sempre il full hd quindi ok poi abbiamo foto a raffica ecco andiamo a vedere possiamo fare fino a cinque foto in sequenza quindi se voi andate ad impostare la fototrappola per scattare delle fotografie poi possiede dirgli anche potete andare a impostare questo valore e dire la fototrappola per esempio che volete fare tre fotografie una dietro l'altro quattro fotografie uno dietro al fino a cinque foto in sequenza poi vediamo che cosa c'è la durata del video va bene la lunghezza del video 30 secondi nella registrazione audio se attivarla oppure no la sensibilità del pir bassa mezza e alta quindi potete andare a regolare la sensibilità del pir questa va regolata vi ricordo anche in base un po alla temperatura esterna in inverno potete mettere bassa tempo e bassa sensibilità perché comunque fuori fa molto freddo quindi basta una minima variazione di temperatura che farà scattare la vostra fototrappola in estate invece quando farà molto caldo dovrete andare a impostare un'alta sensibilità perché già l'ambiente esterno sarà molto caldo quindi si avrà bisogno di una sensibilità maggiore per far partire la vostra fototrappola poi mezza quindi adesso è un periodo buono mettiamo a mezzo riempi distanza della luce è la potenza degli r quindi possiamo aumentare o diminuire la potenza dei nostri r mettiamo una cosa media secondo la zona ovviamente che andiamo a inquadrare nome della fototrappola è un nome che diamo noi alla fototrappola wifi led il led che troviamo qui esternamente sulla nostra fototrappola è questo qui che possiamo selezionare se farlo funzionare oppure no quando utilizziamo il wifi quindi per vedere che stiamo utilizzando il wifi non lo so appuntamento non è altro che l'impostazione dell'ora della data e dell'ora ok quindi usciamo poi c'è il formato della data va bene il formato orario registrazione in loop in pratica registrazione in loop è quell'impostazione che ci permette di andare a registrare i dati nuovi sui dati vecchi qualora la scheda di memoria si dovesse riempire quindi se la scheda di memoria si riempie con tanti filmati la fototrappola non si ferma ma continua a registrare andando però a cancellare i dati vecchi e andando a sovrascriverli con quelli nuovi quindi attenzione perché se attivate questa funzione correte il rischio di perdere magari dei bei dei bei video quindi fatelo con con coniezione di caso poi abbiamo il segnale acustico e in pratica il segnale acustico dei tasti la il formato a scheda di memoria è la formattazione della scheda di memoria quindi sempre formattare la scheda di memoria quando l'andiamo a inserire sulla nostra fototrappola per la prima volta almeno poi c'è la lingua abbiamo visto quante lingue ci sono disponibili la protezione della password questa la password che andiamo a inserire a protezione della nostra scheda di memoria protezione anche della nostra della nostra fototrappola quindi vi consiglio sempre di andare a mettere la password ripristino di fabbrica e ripristino delle impostazioni di fabbrica informazioni sulla versione del software il servizio post vendita sicuramente ci sono delle email dei contatti per contattare la q life pro per uscire basta premere il tasto menu ecco qua e ci ritroviamo alla pagina iniziale benissimo abbiamo visto quindi quali sono le impostazioni della fototrappola quali sono le funzioni di cui dispone questa fototrappola io direi adesso di andare a vedere la confezione andare a vedere brevemente il contenuto della confezione e poi ci vediamo insieme qualche video che ho girato appunto con questa q life pro vediamo insieme il contenuto della confezione qui c'è questa targhetta bianca perché mi è stata spedita direttamente così senza nessun involucro esterno quindi andiamo a vedere che cosa c'è all'interno naturalmente fototrappola e cinghia questo è il cavetto per collegare la fototrappola a un computer e questo è il supporto per attaccare la fototrappola a una pianta secca o un paletto dove vogliamo ci sono anche i tasselli poi c'è naturalmente il libretto di istruzioni il libretto di istruzioni devo dire che che è molto ben fatto è a colori è un multilingue a colori spiega sia la fototrappola che le funzioni della del wifi insomma come collegarsi al wifi quello che ci permette di fare l'applicazione dedicata ci sono le principali caratteristiche quindi devo dire che sicuramente è un buon libretto di istruzioni va bene però adesso passiamo alla parte più importante quella dei video quindi andiamoci a vedere qualche video girato con questa fototrappola sarei con qualche video di giorno volpe di giorno eccolo qua beh come vedete le immagini sono sicuramente abbastanza buona insomma il video è luminoso l'audio è quello che non è eccezionale c'è un po di rumorosità vediamoci un altro video quello era giusto uno spezzone però vi voglio far vedere questo perché è ancora più bello la stessa posizione l'animale sicuramente ha una pelliccia più bella questo si vede sicuramente molto bene quindi diciamo che nella giusta posizione con la giusta luce e sicuramente le immagini sono di buona di buona qualità almeno le immagini di giorno sicuramente sono di buona qualità poi andiamoci a vedere un altro video faccio vedere un capriolo all'alba ecco qua allora qui vi voglio far notare come ci sia intorno all'animale una specie di effetto fantasma ecco vedete qui guardate è una cosa particolarissima ecco vedete si chiama proprio effetto fantasma io l'ho trovato soltanto in un'altra a fototrappola in un'altra fototrappola della reolink l'ho trovato soltanto nella king ranger del reolink questo effetto particolare si diceva fosse dovuto agli fps degli fps vedete qui vedete qui come la zona non è messa a fuoco si vede che c'è insomma qualcosa che va ad impedire la definizione si diceva che questo effetto fosse dovuto agli fps del del video in penso di no perché questo video ho controllato a 25 fps quindi sono più che più che sufficienti per avere una buona qualità una fluidità normale comunque il soggetto si vede non è che non è che non si vede andiamo a vedere il cinghiale un cinghiale di notte quello erano in brunire questo invece un cinghiale di notte eccolo qui si vede abbastanza bene l'animale si vede tranquillamente c'è questo effetto vedete si vede intorno all'animale questo effetto fantasma quindi che ritroviamo un po in tutti i video in tutti i video di notte questo è un altro cinghiale vedete quando l'animale è fermo sicuramente si vede abbastanza abbastanza bene considerate sempre che i led sono a 940 nanometri vero si vede si vede bene quindi sicuramente utilizzandola con funzione di controllo non ci darà nessun problema ecco quando muoviamo vedete intorno alla coda come sia un effetto particolare vediamo anche un istrice questo è l'ultimo video perché vi voglio far vedere anche questo fatto voglio farmi notare questo fatto l'istrice molto probabilmente viene da qui molto probabilmente sicuramente viene dietro questo cespuglio però il video parte qua quindi significa che il trigger almeno un secondo un secondo e mezzo poi dopo ecco vabbè adesso non parte comunque ecco l'istrice poi si ferma vedete quando è fermo l'animale c'è una buona definizione mentre quando l'animale cammina anche qui abbiamo questo effetto fantasma intorno all'animale quindi caratteristico appunto dei video di notte bene ragazzi allora come avete visto buoni video di giorno girati con questa fototrappola una qualità discreta direi l'audio non è eccezionale si sente però non è una cosa eccezionale per quanto riguarda i video di notte non è che mi sono piaciuti tantissimo sono dei video che rientrano diciamo in una fascia di accettabilità però c'è questo effetto fantasma intorno al soggetto che un pochettino mi mi ha lasciato perplesso diciamo comunque vi ricordo che questa fototrappola ha un'applicazione dedicata che ci permette di andare a selezionare una determinata zona che vogliamo monitorare nell'ambito della zona che abbiamo inquadrato quindi se la mettiamo per controllare per esempio una casa quindi se la vogliamo utilizzare per controllare una casa che si trova vicino a una strada volendo possiamo andare ad escludere il monitoraggio della strada quindi possiamo dire alla fototrappola al peer di attivarsi soltanto se qualcuno si avvicina alla casa escludendo quindi la strada questo fa sì insomma che utilizzandola insieme appunto a questa applicazione con i led a 940 nanometri abbiamo una buona fototrappola per il monitoraggio a quel punto anche le immagini che non sono proprio eccezionali diciamo potrebbero comunque andare bene anche le immagini di notte mi riferisco alle immagini di notte che non sono proprio eccezionali potrebbero anche andare bene perché per il monitoraggio non ci servono immagini eccezionali per quanto riguarda invece gli animali avrei qualche perplessità perché comunque questo effetto è un po' antipatico il prezzo di questa fototrappola è di circa 70 euro il prezzo pieno però attualmente vi è uno sconto delle 30 per cento quindi in pratica la pagate meno di 50 euro diciamo che per questo prezzo con queste applicazioni e queste caratteristiche è una buona fototrappola dedicata soprattutto al monitoraggio quindi se volete controllare qualcosa prendetela in considerazione perché l'applicazione è veramente molto buona e la fototrappola vi permette di fare determinate cose in tranquillità quindi diciamo che per il monitoraggio è una buona fototrappola con delle buone caratteristiche va bene io penso che per questo video sia tutto se mi volete chiedere ancora qualcosa su questa q life pro ph 830 w lo potete fare sotto nello spazio dedicato ai commenti oppure mi potete scrivere alla mail fototrappola review chiocciola gmail.com un saluto da marcello e al prossimo video ciao ah mi raccomando iscrivetevi al canale 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 ah mi raccomando iscrivetevi al canale